Buongiorno, buon giovedì 12 gennaio, consueto appuntamento con la lettura dei giornali. Tra poco inizieremo, come di consueto, a scandaliare le prime pagine quotidiane oggi in edicola con i temi principali a partire da quello che è il caso, così come tra poco lo vedremo, come lo definisce il Corriere della Sera, benzina, il caso delle accise. Ieri è stata una giornata all'insegna delle polemiche tra la Premier, Giorgia Meloni e le opposizioni, opposizioni che rimproverano alla Meloni di aver promesso in campagna elettorale la conferma comunque della sospensione delle accise sui carburanti, cosa che ha creato poi la mancata conferma dello stop alle accise, così come era stato predisposto dal Governo Draghi, ha comportato un aumento di benzina e gasolio alla pompa. Questo naturalmente ha scatenato la polemica da parte delle opposizioni, ma la Meloni ieri via Twitter con un video che è durato intorno ai 16 minuti, ha risposto nel dettaglio sostenendo di aver dovuto necessariamente rispetto a quello che aveva contestato anni prima, è stato diffuso un video del 2018 dove appunto condannava le accise, ma insomma la situazione contabile dello Stato ha comportato alcune scelte, ha costretto l'esecutivo a fare alcune scelte, a destinare le risorse in altra direzione. Non si parla solo di questo perché poi c'è stato l'accordo, ci spostiamo proprio sul versante opposizione, tra poco lo vedremo, tra i candidati alla segreteria del Partito Democratico si potrà votare, è stato approvato un voto online con diverse restrizioni. Si parla anche di sicurezza, ieri il tavolo dopo i fatti di domenica sulla 1, gli ultraviolenti, violenti, insomma il ministro Piantedosi ha chiesto mano ferma ai vertici anche del calcio. Tutto questo sui quotidiani lo troviamo a partire appunto dal Corriere della Sera con il titolo di apertura, benzina al caos delle accise, l'opposizione critica la Premier per gli interventi promessi prima del voto, la replica necessarie più entrate. Meloni, tagli impossibili ora, finanziati altri aiuti, Bolzano è la più cara. Intervista con il vice ministro dell'economia Leo, Maurizio Leo, che annuncia che l'IRPEF calerà, insomma una buona notizia anche se in prospettiva. I meccanismi di accesso alla facoltà, una via per medicina. Andiamo a vedere l'editoriale di Antonio Polito che come vi dicevo affronta l'altro argomento interessante sul piano politico, la regola di cambiare le regole. Polito fa un'analisi appunto di quella che è l'evoluzione in casa del Partito Democratico sul piano normativo per quanto riguarda il voto. Vedete a centropagina c'è questa fotonotizia angosciosa e angosciante perché arriva dal Perù, strage di manifestanti e una gente bruciato vivo. Cosa è successo? Il Perù è nel caos per le proteste dopo l'arresto dell'ex presidente Pedro Castiglio per il tentato golpe. La repressione fa strage tra i manifestanti con decine di morti e appunto il Corriere della Sera ci documenta le bare e un poliziotto è stato bruciato vivo. La presidente Boluarte intanto è stata accusata di genocidio, una situazione veramente esplosiva. Ancora di spalla all'allarme del capo della polizia Lamberto Giannini, sicurezza pubblica a rischio per gli ultra, parla appunto il responsabile della polizia. Ancora dal Corriere della Sera, andiamo a vedere in taglio alto sempre di spalla, caduti al fronte, 500 coscritti e Putin nomina un nuovo capo. è stato appunto nominato Valery Gerasimov, il comando dell'operazione in Ucraina. Andiamo a vedere Repubblica accese le bugie di Meloni, la Premier nega di aver promesso l'abolizione dell'imposta statale sulla benzina ma nel programma elettorale c'era. In realtà la definizione precisa sul programma elettorale era sterilizzazione delle accese, che insomma vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Lega e Forza Italia premono per abbassare i prezzi e i gestori degli impianti minacciano uno sciopero a fine mese. Le mani di Fratelli d'Italia sul turismo, ecco la rete di Lollo Brigida. Ancora, ancora da Repubblica, PD si alboto online con molte restrizioni, le primarie saranno il 26 febbraio. Sarà possibile per gli elettori anziani con inabilità personali perché ha difficoltà ad andare ai gazebo per chi vive in zone impervie all'estero, compresi gli studenti fuorisede. Poi la storia, la scelta di Clarissa Ward, inviata CNN al fronte e incinta migliaia di donne vivono così. Facciamo in tempo anche a vedere come apre la stampa. Cise Meloni si arrende, impossibile tagliarle ora. Mutui e prestiti ai massimi dal 2014. Bola il costo degli alimentari. Ancora dalla prima pagina della stampa, nell'inferno di Evin, Iran. La testimonianza shock dell'attivista in cella da quattro anni. Ci fermiamo, pubblicità, e poi riprendiamo la lettura dei quotidiani. A fra poco. Di nuovo buongiorno. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sul Messaggero di Roma. Vedete il titolo principale, quello d'apertura, riguarda l'Imu, parte la corsa ai rimborsi. La consulta sia all'esenzione multipla per i coniugi recuperabili, le somme bersate. Da 2017 Meloni taglio alle accise solo con nuove entrate. Ora la priorità è tutelare le fasce deboli. Sull'argomento rincari c'è l'editoriale di Angelo De Mattia, governo cauto, l'energia alle stelle e le mosse dell'Unione Europea. In taglio alto, Mattarella indignato per la repressione in Iran, ferma condanna, protesta del Quirinale al nuovo ambasciatore. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto il neo ambasciatore di Teheran, Mohamed Reza Saburi, esprimendo ferma condanna. Ancora sulla guerriglia, la guerriglia scatenata sulla 1, trasperte vietate per l'ultra del calcio. Per il momento la misura è per umanisti e napoletani, giuventini, che potranno andare alla Maradona. Viminale, severità, intanto danni per 50 milioni. Sugli appennini non c'è più neve, aiuti da parte del Governo. Siamo sul giornale Guerra sulla benzina, così titola il giornale in prima pagina. Meloni difende la scelta di non tagliare le accise, tensione con Lega e Forza Italia. I distributori minacciano lo sciopero stretta sui migranti verso una missione in Libia. La solitudine dei democratici, zona leadership è il tema trattato dal direttore del giornale, Augusto Minzolini. Accordo a ribasso, PD senza pace, litiga perfino sul voto ristretto. Poi ancora, immediatamente sotto la testata, un caso che ieri ha messo in sobbuglio gli interi Stati Uniti perché sono stati blocchiati per 5 ore tutti i voli aerei, sistema in tilt, ma è già l'ufficialmente un guasto tecnico, ma qualcosa non torna, 6 mila aerei in ritardo, anche se poi le notizie ufficiali parlano di un file danneggiato su un sistema di allarme utilizzato dai piloti. Riportate l'esercito in ospedale, l'appello dei medici al Governo, emergenza violenza e oltre 2.500 aggressioni. Vedete i segni sul collo della specializzanda, aggredita a Udina. Impunità per gli ultra, gli agenti si ribellano. Il fatto quotidiano, armi accese e poltrone, Forza Italia e Lega provocano meloni. Il fatto quotidiano che già da qualche giorno, insomma, così paventa delle spaccature all'interno della maggioranza, spaccati pure su Kiev, per l'appunto, sì dai forzisti ai leghisti, ma con più critiche di PD e Centro, No 5 Stelle e Sinistra. Intervista alla DEM Susanna Camusso, astenuta sugli armamenti all'Ucraina, adesso basta, si allontana solo la pace, ci racconta il fatto quotidiano in questa intervista appunto alla Camusso. Il tema dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa oggi riguarda il Me Too e prende spunto da un posto al sole, che è la nota fiction che da alcuni decenni va in onda in Rai. La Francia ha avuto Catherine Deneuve, noi abbiamo un posto al sole. L'elogio dell'eroica fiction della Rai contro gli abusi del Me Too. Cerasa racconta appunto la trama dove c'è una ragazza che per ripicca accusa un uomo di averle usato violenze. Qui parte la, come dire, la riflessione di Cerasa su questo tema dedicato e importante. Per quanto riguarda la guerra, Gerasimov piglia tutto, il comando russo si riorganizza e cerca unità, il dinaro e le armi che servono a Kiev dall'Unione Europea. Il tweet system di Meloni, invece, per quanto riguarda il discorso appunto delle accise, i dirigenti devono ruotare per evitare che diventano i ministri del ministro, i pensieri di Fazzolari e della Premier che puntano a responsabilizzare la politica. A casi Rivera, Ruffini e Dalverme, questo è quello che propone oggi il foglio. Siamo su Libero, fermate i sindaci DEM, grida Libero in prima pagina, a 30 all'ora si muore di più. Lo studio francese abbassare la velocità delle auto non riduce gli incidenti gravi, anzi, le vittime tra i pedoni aumentano del 38%. La Meloni sulla benzina con la sinistra a prezzi più alti. Ecco, la polemica di 30 all'ora parte dalla decisione appunto di istituire questo limite dal 1 gennaio del 2024 a Milano. In taglio alto, Salvini e gli autori, sul caso della foto all'Avis, donate il sangue, guardate il braccio, non il dito. Qui c'è la foto appunto di Matteo Salvini durante la donazione di sangue e un giovane medico che ha appunto sollevato il dito medio. Insomma, ci saranno evidentemente assunzioni di responsabilità, come ha dichiarato il responsabile dell'Avis per quanto riguarda l'atteggiamento di questo medico. Ma insomma, Salvini ha sdrammatizzato. La cultura del male. Stiamo allevando il nemico in casa, dice Vittorio Feltri, riferendosi al terrore islamico, perché sei feriti alla stazione, a Parigi torna appunto il terrore islamico. Questo da libero. Andiamo a vedere il manifesto. Diritti minori dai bambini migranti non accompagnati e piccoli schiavi nelle migliori fino ai giovani detenuti. Nel rapporto sui diritti globali di Human Rights Watch, tutti gli abusi nei confronti dei figli di un dio minore in Italia, rivolta per i farmaci nel carcere di Casal del Marmo. Oggi Conte presenta Donatella Bianchi. Damato non esclude allargamenti, ma dopo il voto, di che parliamo delle elezioni regionali per il Lazio, si conferma il campo stretto. Il manifesto si occupa ancora del Brasile. Arrestati o cacciati via da Brasile tutti i capi della sicurezza. Mentre intanto da Brasile arriva un'altra allarme, perché pare che i bolsonaristi, così come sono stati definiti, abbiano lanciato un altro appello alla mobilitazione. Ma insomma c'è grande attenzione a parte della sicurezza, delle forze dell'ordine. Siamo sul domani. Meloni toglie fondi alla natalità per pagare i consulenti del governo. L'esecutivo ha deciso di investire risorse per la macchina di palazzo, mentre azzere il fondo per sostenere le nascite. Premiate anche le politiche per l'aerospazio, settore in passato vicino al ministro Guido Crosetto. Poi Stefano Ungaro, l'economista, il vero pericolo della regge spacca Italia di Calderoli verso le privatizzazioni, si parla della legge quadro sull'autonomia regionale, presentata appunto dal ministro Calderoli a fine dello scorso anno. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che fa il bilancio del 110%, il cosiddetto bonus edilizio, che chiude l'anno a 62 miliardi. Agevolazione appunto nel 2022, quasi 264 mila cantieri per 46,3 miliardi, di cui 44 solo a dicembre. Concluso l'83% dei lavori, Lombardia prima regione con 10,8 miliardi di interventi. Poi, perché è investito in questa direzione, rendimenti dei titoli di Stato in forte calo decennale a 4,03%. Andiamo a vedere la verità. Delinquenti subito liberi, questa è la linea che sta seguendo la verità da alcuni giorni sulla riforma della giustizia firmata a Cartabia. Delinquenti subito liberi, la Cartabia è un problema, scrive la verità. La riforma dell'ex guardasigilio stagola gli agenti che non possono arrestare neppure in flagranza di reato e con la genialità di abolire i furfanti per sdellire i processi, la pupila di Mattarella aspira a guidare il CSM. Taglio centrale, la foto del ministro dell'interno Piantedosi, vi spiego come ripuliremo dal degrado le stazioni delle grandi città ed è questa sicuramente una problematica una problematica importante di spalla. Repulisti in Brasile, scusate, Lula approfitta dell'assalto per fare il suo golpetto. Andiamo a vedere il tempo, abbiamo ancora una manciata ai secondi, sfida sulla sanità del Lazio verso le elezioni regionali, il programma di D'Amato, azzererò le liste d'attesa ma in dieci anni non c'è riuscito. Poi in taglio centrale, il tempo di Osho, le primarie PD, voto online riservato ad anziani e chi vive in zone isolate ed è insomma simpatica questa foto che ritrae una persona insomma avanti con gli anni, ma gran ci indostà. Chiudiamo con la gazzetta della sport, Diavolo che toro, impresa dei Granata a San Siro, restano in dieci, eliminano il Milan da cosa dagli ottavi nella Coppa Italia e peraltro partita giocata a San Siro. Ci fermiamo qui, adesso tocca a Paolo Sottocorona informarci sul meteo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, a seguire se vorrete poi c'è la prima edizione del TG La Sette. A te Paolo. Grazie Roberto, buongiorno. Sono entrate quelle nuvole che ieri avevamo visto si stavano affacciando al nord. La previsione era che non ci fosse realmente maltempo, quindi qualcosa c'è, ma non fenomeni particolarmente intensi. Qualche pioggia c'è in realtà, adesso forse non proprio debolissima, ma direi che sono prevalentemente deboli. C'è stata durante la notte anche qualche nevicata sull'Appennino, il che non è male. Vediamo come si sviluppa. Eccolo qua, vedete al nord molte nuvole, ma piogge poche, qualcuna sulle zone interne del centro, sulle coste vedete tirreni, che forse sul basso tirreno c'è questa specie di striscia gialla che potrebbe dare qualche fenomeno più intenso, ma è in prevalenza sul mare, tocca appena la Calabria, vedremo poi insomma quanto ne farà di questa pioggia. Giornata di domani si ritorna in questa situazione di qualche nuvola, debolissime piogge, Liguria, Alta Toscana, Sardegna, forse le coste del basso tirreno, se no qualche schiarita, se no qualche nuvola, quindi quel tempo appena un po' incerto, ma sicuramente non è maltempo. Nella giornata di sabato restiamo in questa situazione, qualche zona nord-est, Liguria, ancora una volta la Calabria, con qualche debolissima pioggia, ma qui parliamo di un millimetro, forse neanche nelle 24 ore, quindi veramente è poca cosa, se no c'è anche qualche schiarita, non c'è solo grigio. Le minime di questa mattina, in leggera ripresa rispetto a ieri, ma i valori si sono al momento assestati un po' in basso, non sotto media sicuramente, però con valori non particolarmente elevati, fanno forse eccezione le zone costiere della Sardegna. Lo stato dei mari era molto forte nei giorni scorsi, si è un po' calmato sui bacini orientali, ancora abbastanza significativo sui canali fra le isole maggiori, sul mare di Sardegna, c'è ancora, anzi c'è di nuovo la zona rossa che significa mare agitato. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Roberto Bernabai. A più tardi.